Assolutamente sì, più 58% in termini di risorse rispetto al 2020, sono molte le coperture che vengono date per quanto riguarda la continuità delle nostre aziende, nonostante questo le aziende agricole come gli altri settori si trovano in una crisi purtroppo in linea rispetto a quelli che sono gli aumenti dei costi di produzione, i costi energetici, ma anche l'arrivo dei costi delle materie prime che vengono utilizzati soprattutto su alcune filiere come quelle zootecniche. Penso che lo sciopero generale di oggi ci debba essere grande attenzione al sociale, ci debba essere grande attenzione alle filiere agroalimentari, bloccare l'agroalimentare significa non dare un giusto segnale ai bisogni dei cittadini, ricordiamoci che all'inizio della pandemia fu proprio l'agroalimentare a dare quelle garanzie di tranquillità a tutti i nuclei familiari, il cibo non è mai mancato proprio grazie al lavoro degli agricoltori, ma di tutta la filiera, compresa la distribuzione.